Non si sono registrati particolari disagi ai caselli autostradali della Messina Catania e Messina Palermo per lo sciopero degli esattori del Consorzio Autostrade Siciliane. Secondo quanto riferito dal CAS, i dipendenti che hanno aderito sono una minima parte, circa 20 su 300. Dunque il servizio sta risultando comunque ottimale e ai caselli si scorre tranquillamente. Iniziato alle 22 di ieri si concluderà alla stessa ora del 31 dicembre. Tra i motivi dello sciopero proclamato dal sindacato CUB, le gravi violazioni riguardanti la mancata sicurezza sui posti di lavoro da parte del CAS, l'assoluta mancanza igienico ambientale alle barriere autostradali, il ritardo del pagamento degli stipendi, la sospensione arbitraria fuori legge dei permessi delle ferie e la condizione di assoluta solitudine di notte in cui operano gli impiegati maneggiando cospicue somme di denaro. Ma dai vertici del CAS non si è fatta attendere la replica. Respingiamo categoricamente i ritardi nell'erogazione degli stipendi, dicono. Si parla di ritardi di tre o quattro giorni che si verificano uno o al massimo due volte l'anno. Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si sta producendo ogni sforzo per garantire tranquillità agli addetti che non si sentono sicuri. Va chiarito però che la CUB non è un sindacato riconosciuto come le funzioni pubbliche per avere degli incontri ufficiali con l'ente e non c'era stata alcuna promessa.